buonasera buon diretta buona diretta buona diretta buona diretta e buonasera a tutti quanti voi voglio fare una diretta un po speciale una diretta strana perché voglio parlare voglio parlare di ricchezza e voglio parlare di povertà ma voglio parlare di ricchezza e voglio parlare di povertà sotto un aspetto energetico perché secondo il mio punto di vista oggi il problema è che le persone è molto spesso non sanno veramente che cos'è la ricchezza e che cos'è la povertà allora quello che ti chiedo di fare è di guardare magari questa diretta con molta calma di commentare di dire quello che vuoi in modo più assoluto e poi ti faccio parlare ti faccio osservare anche questa tabella innanzitutto che cos'è questa tabella questa qui la tabella della numerologia antica nella matematica sacra questa è la tabella dove parla anche di ricchezza parla anche di povertà parla anche di tantissime cose in merito a tutto quanto ciò innanzitutto visto che è una diretta assolutamente gratuita chiedo di condividerla tutti i tuoi contatti quindi grazie 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 a chi la condivide di voi ok quindi puoi premere il link premi il tasto condividi e la condividi su facebook condividerà dove vuoi perché il concetto di questa diretta è importantissima allora perché ho deciso di fare questa diretta ho deciso di fare questa diretta perché un amico di nome paolo e mi ha mandato un video dicendo guarda hai fatto un video sulla ricchezza sulla povertà e hai avuto mezzo milione di visualizzazioni su instagram volevo farti i miei complimenti io guardo il video che adesso vi faccio ti faccio vedere anche a te è una volta che io guardo il video che cosa succede succede che poi guardi i commenti e commenti sono incredibili sono offensivi ma non è tanto il fatto stesso con una persona mi giudica io sono dell'avviso che il giudizio può temprare che può fare anche bene no io sono invece dell'avviso che i commenti sono stati nel modo più assoluto disastrosi perché fanno capire che il popolo italiano è un popolo ok come mi piace dire qui di ipnotizzati quindi italia popolo di ipnotizzati e adesso ti faccio capire il perché ti dico questo ok allora innanzitutto ti faccio vedere questo video che è molto semplice molto semplice ma ti farà veramente riflettere guarda devo metterlo così perché non non c'è la possibilità di farlo come ragione non me lo posso permettere non posso venire a cena non posso fare palestra non posso venire domani non posso fare una passeggiata non posso comprare quell'auto non posso andare in un ristorante un povero senza volerlo continua a programmare il suo sistema energetico attraverso attraverso una persona ricca invece che cosa fa una ferrari davanti certo che posso venire a camminare a piedi perché no devo trovare il tempo mi alzo mezz'ora prima la mattina la palestra anche se non la puoi fare certo che la faccio la faccio a casa ma adesso il prossimo mese troverò il modo di farlo sempre rivolto al positivo le persone senza volerlo programmano il loro sistema cellulare e non è solo consapevoli attraverso la negazione effetto placebo o attraverso invece la positività l'effetto placebo dove puoi stare dove ti vuoi mettere nella tua vita sentiti importante e finisci la di fare povero divieni lì vero e tra me come ragione allora la cosa interessante di questo video sono stati come dicevo prima i commenti e i commenti sono uno dice mai sentite tante stronzate in un colpo solo e c'è una cosa io infatti guardo le pollette pagliaccio eh che con chi le c'è una serie incredibile di commenti e io osservo i commenti e osservo e ho osservato una cosa estremamente semplice che l'italiano l'italia è un popolo di ipnotizzati perché l'italia è un popolo di ipnotizzati ma ma è soprattutto un popolo di poveri e perché l'italia l'italiano è un popolo di poveri perché regna la povertà perché fanno altro che dare potere sempre alla critica fanno altro che dare potere sempre al negativo allora su facebook nei social ultimamente ci sono sempre queste immagini ci sono immagini dove ci sono persone che mettono denaro quindi io metto denaro e faccio capire che ho soldi quello è sinonimo di ricchezza o di povertà è sinonimo di povertà perché una persona ricca non ha bisogno di far vedere e non ha bisogno di farsi vedere una persona ricca è ricca dentro allora andiamo a capire un attimino qual è il concetto secondo il sapere della ricchezza e della povertà allora il concetto è molto semplice e te lo spiego in pochi altri se io sono un uomo ricco l'uomo ricco per far vedere che è ricco dovrebbe vestirsi da povero e essere messo in mezzo alle persone normali si deve distinguere dagli altri distinguere dall'educazione certo ma distinguersi soprattutto dal pensiero ognuno ce l'ha innato dentro è una questione di comportamento è una questione di di energia io ad esempio sono ricco abbastanza certo devo migliorarmi c'è sempre da migliorarsi nel modo più assoluto ma oggi le persone molto spesso hanno degli atteggiamenti da poveri allora che cosa fa una persona ricca innanzitutto una persona ricca è una persona di sapere pertanto ricchezza uguale salute in primis rucchezza uguale sapere ricchezza uguale denaro ricchezza uguale conoscenza sapere amore questo è la vera ricchezza ma quando una persona invece pensa che la ricchezza sia solamente una questione economica è uno stupido il problema dell'italia oggi è molto semplice qui c'è una tabella con tutte le lettere ok io ad esempio oggi ok ero a mi trovavo a Firenze perché sono andato a Firenze sono andato a Firenze per un motivo semplice come ben sapete io amo tantissimo Leonardo da Vinci mi sento molto legato c'è una storia secondo me farò veramente qualche cosa di di importante a livello italiano nazionale europeo mondiale tutto quello che vuole Firenze è una città che secondo la numerologia ha un codice 33 quindi f 8 i 1 r 2 e 5 n 5 z 7 e 5 totale frequenza 33 la frequenza 33 in questo caso di Firenze è una è una frequenza che indica bellezza miracolo denaro arte filosofia conoscenza sapere dov'è la porta del miracolo a Firenze guarda caso la città del rinascimento italiano Firenze in che anno 1500 sempre sei allora il codice 6 15 e 24 in numerologia rappresentano la dea rappresentano venere la dea della bellezza e venere rappresenta il sapere rappresenta il denaro rappresenta la bellezza le persone nati in questo giorno o con questa firma tendenzialmente hanno le mani pulite non si sporcono le mani perché fanno lavorare gli altri perché sono fondamentalmente delle persone energetiche che se messe nella vibrazione giusta non solo fanno denaro ma fanno una bella vita allora ci sono persone date il giorno sei che sono sfigate certo 15 o 24 che hanno la firma sbagliata certo perché vivono nella città sbagliata perché hanno una firma sbagliata la firma vuol dire che il nome e cognome di loro sono dei numeri che sono antagonisti a sei perché vivono in un ambiente in una famiglia che gli ha trasmesso la povertà che gli ha trasmesso eh la svalutazione che gli ha trasmetto tu non te lo puoi permettere si sono ipnotizzati finiti arrivano anche al suicidio certo alla depressione certo alla droga le malattie certo è normale perché l'anima della persona dice io sono ricco io sono un genio io sono un talento ma c'è la mente che dice stai zitto tu sei un c***o sei un fallito sei un fallito perché te l'ha detto tuo padre sei un fallito perché te l'ha detto quel professore a scuola quella maestra a scuola quei compagni non vedi che sei un pagliaccio cioè un pagliaccio e quella persona ha quel dialogo interno nella vita e va incontro il coglionazzo che vive in lui che ha questa voce che è qui nel suo spirito guida e quella persona nella vita sarà sempre un frustrato poi andrà a chiedere un consiglio qualcosa a qualcuno che che cosa devo fare che cosa posso fare no la persona non è centrata pertanto quella persona diventa un italiano un popolo di ipnotizzati allora quello che io voglio dirti e questa è una diretta non per tutti ma è fantastica perché la cosa bella è che tu mi porti cento persone mille persone dieci persone io non ci parlo neppure non voglio sapere niente di loro nome e cognome numerologia dialogo con i suoi chakra e so tutto di loro anche quanti peli hanno nel culo se ce li hanno o se non ce li hanno perché tutto registrato e non è registrato qui è registrato nei nostri chakra e qui insieme ambe due le cose il problema più grande pertanto oggigiorno anche le persone soprattutto gli italiani sono poveri perché dobbiamo capire che nel nostro sangue nel nostro dna c'è una energia c'è una energia c'è una genetica che potentissima quello che noi diciamo lo impregniamo a livello energetico è dentro di noi io quando ero piccolino mi ricordo mio padre mi disse alberto la ferrari ti piace certo papà ce l'avrò un giorno mio papà rideva ma se non ti piace far niente va bene papà non lo so troverò il modo di averla il bambino che era in me ma sicuramente anche il bambino che è in te attraverso la fantasia l'immaginazione ha sognato qualsiasi cosa quando poi arriva un coglione di giorno che ti dice tu questo non te lo puoi permettere quella persona dovete dargli un calcio nel sedere non se lo può permettere allora io dico che una persona ricca è una persona nel modo nell'atteggiamento nella postura nella sicurezza nel sapere in tutto quello che fa e lui vibra un'emozione di ricchezza vive un'emozione di abbondanza perché me lo merito perché sento che me lo posso fare e se voi non avete questa voce vuol dire che siete stati ipnotizzati da una persona svalutante e pertanto avete questo programma il futuro degli italiani povero per colpa di chi delle donne perché perché il più grande motivatore del mondo è la mamma il più grande motivatore del mondo è la donna ascoltate bene quello che dico perché la chimica della parola è importante io ho dato una responsabilità alle donne e qua ti spiego il perché ma lo devi ascoltare bene e non capire pan per polenta il popolo italiano è un futuro popolo povero può diventare un popolo ricco certo attraverso che cosa il sapere perché la conoscenza ti libera dal peccato mozart il problema delle donne qual è che il motivatore più potente del mondo è una donna una donna 18 mesi prima di nascere un bambino quindi se un bambino nasce oggi in realtà è nato nove mesi fa come tempo di concepimento e nove mesi prima come tempo di processo biologico ci sono 18 mesi in quei 18 mesi quella donna dona i soldi per pagarsi il gas non hai soldi per comprarsi da vestire per comprarsi il cibo sta soffrendo in preca a un marito poi che un pirla e non è che l'aiuta devi lavorare devi fare pertanto questa donna questo vaso di cristallo è pieno di stress quando lei fabbrica il bambino perché la mamma è una casa madre fabbricando il bambino che cosa fa alimenta suo figlio attraverso il cordone umbilicale e quel bambino attraverso quel cordone umbilicale lo alimenta nell'intestino soprattutto a quel bambino un domani può venire non solo la celiachia non solo le intolleranze non solo il rifiuto ma viene programmato con io non ho soldi io non ce la faccio io qua io là perché a livello cellulare un bambino a livello cellulare un bambino ha un dialogo che non è analitico ciao come stai bene ma è associativo ti faccio un esempio tu stai mangiando una pizza e nel momento stesso che tu mangi la pizza c'è un pirla che rapina con la pizzeria comincia a sparare e comincia a sparare vicino a te non ti ferisce ma prendi tanta paura perché quello veramente scemo bene il risultato è che tu un domani molto probabilmente diventerà intollerante non solo alla pizza ma anche il pomodoro perché a livello reattivo se quella persona ti ha creato un grandissimo stress soprattutto se è un bambino a livello di velocità emozionale quella persona creerà un conflitto una cassetta scatenata si può liberare questo certo è un lavoro certosino ma si può fare ma la domanda da porsi è che il dialogo dell'essere umano è associativo ed è primitivo ed è arcaico la scuola pertanto la scuola non educa insegna non è che da educazione lascia il segno si lascia un segno ti fa male la scuola la scuola come viene fatta è un bidone della spazzatura tanto che le persone migliori al mondo non hanno studiato perché loro hanno una voce forte che li guida e gli dice quello che deve fare la scuola invece protocolla la persona e le giudica tu un domani puoi fare questo non sei abilitato per fare quell'altro ma non è vero niente una persona i suoi doni una persona i suoi talenti devi conoscere il dono e il talento ma devi anche liberare quel bambino perché se quel bambino e quella bambina sono frustrati perché hanno dei genitori che sono pieni di problemi la mamma che ha sofferto il papà che ha sofferto quel bambino in un programma emozionale che è è un imbuto è in un labirinto come fa a uscirne allora che cos'è la ricchezza la ricchezza è liberare i doni la ricchezza liberare i talenti la ricchezza è cercare di dire ad un bambino io sono ricco incominciando dalla salute io sono ricco incominciando dalla libertà io sono ricco incominciando dall'abbraccio dall'amore dalla gioia della voglia di vivere dal denaro perché ricchezza prea ricchezza chiama ricchezza io sono ricco perché vado a firenze e guardo un bellissimo paesaggio posso guardare qualsiasi cosa di bello e vado una città che mi nutre la ricchezza ci sono degli atti psicomagici ci sono degli incantesimi sconosciuti all'uomo io li conosco ma certo che li conosco li conosco tantissimi ma se li dici le persone non li capisce perché le persone sono ipnotizzate e pertanto dovete farvi la quarta la quinta la sesta la settima e l'ottava dose quello è il vostro problema e non vi assicurate nemmeno che cosa ci può essere dentro in questa situazione o in questa cosa o in questa evenienza oggi pertanto le persone sono piene di metalli pesanti e attraverso dei metalli pesanti vanno intossicare il loro sistema energetico il loro sistema cellulare e se io intossico il mio sistema cellulare non sono connesso con l'universo non sono connesso con dio ma sono connesso con chi sta manipolando il mio sapere la mia mente la mia persona il mio vero se allora io sono una persona molto chiara molto schietta ma soprattutto sono una persona che ama l'essere umano lo amo lo studio e perché lo amo e lo studio lo amo lo studio perché la cosa è giusta così perché è una questione che sento che pro io ho visto mio papà andarsene in cielo ho visto mia mamma andarsene in cielo finché un giorno mi sono incazzato e ho detto bene io studio il corpo umano e se dovessi trovare un domani un uomo che che può avere dei problemi come mio papà è una cazzata per me aiutarlo sempre che lui lo voglia fare con l'aiuto della medicina perché la medicina in un processo di guarigione è fondamentale ma noi non siamo solamente un corpo noi siamo un'emozione che vibra all'interno di un sistema cellulare che dialoga con un cuore che a sua volta dialoga con un'anima che muove un corpo allora c'è tanto caos allora c'è tanto confusione allora bisogna liberarsi che cos'è la ricchezza io me lo posso permettere alberto è un aereo non me ne frega niente prova emozione per quel aereo a non mi interessa ok alberto ti piace quella aston martin io me la posso permettere ti piace sì mi piace se io vibro la vita farà in modo che io non che prenda quella aston martin ma che possa conoscere persone che possa conoscere persone e che queste persone mi possono conoscere persone che possono arricchire il mio dono il mio talento il mio sapere che a sua volta quel sapere mi fa diventare ricco e quella ricchezza mi permetterà un domani di comprarmi un'autovettura importante allora quello che io voglio dire ad ognuno di voi è che noi dobbiamo avere un atteggiamento da ricchi soprattutto se siamo poveri perché è una sfida perché è un atteggiamento la persona ricca una persona sicura di sé oggi il problema più grande del mondo sono due il primo la donna perché perché la donna poverina gli hanno creato un tranello grande come un grattacielo non hanno capito che la donna è più grande motivatore del mondo dell'universo non hanno capito che la donna a livello energetico fisico e quantico ha un sistema energetico che è delicatissima e fragilissima tanto te alle sue mestruazioni ogni 28 giorni sul ciclo mestruale a tutte queste cosine qui sono molto delicate le donne e non la puoi trattare come un rudere come un scaricatore di porto oggi le donne fanno tutto fase 2 l'uomo oggi non sa nemmeno che cos'è la sicurezza l'uomo oggi non ha la sicurezza non è un uomo non ti guarda con lo sguardo di un uomo e ti dice io sono un uomo no hanno il pene solamente per perché lo devono avere ma in realtà il pene molto spesso non ce l'hanno neppure perché la primo pene il pene come studiava leonardo da vinci il glande ha un cervello e il cervello del grande del pene dialoga con l'intestino con il nostro cuore con la nostra tiroide e con il nostro cervello pertanto noi abbiamo di conseguenza già cinque cervelli importantissimi e quando il cazzo dialoga con la mente con il cuore un uomo è potente oggi gli uomini hanno il cazzo che non dialoga con nessuno mentre va per i cavoli suoi va per conto suo e perché va per conto suo perché l'uomo non è stato abituato a crescere con la sicurezza con la determinazione con la convenzione con la certezza che lui può ottenere quello che lui desidera lui vuole fai l'operaio c'è un disoccupato non importa lave i vetri l'ave per terra fai qualsiasi cosa ma tu sei fiero di quello che fai perché tu sei un uomo perché tu sei centrato perché tu sei fiero poi una persona se conosce i suoi doni i suoi talenti va incontro anche la sua energia va incontro alla sua città l'italia è lo stato più potente al mondo perché ha molti mari che la attraversano e perché a livello storico fisico e quantico è un paese degli artisti è un paese di poeti è un paese di filosofi è un paese di preti è un paese dei santi è un paese del vaticano dove ci sono stati dei papi anche immensi e potenti ma nessuno vuole dare potere a questo allora le persone vogliono prendersi possesso di questo gioiello governato da degli imbecilli ipnotizzati perché il popolo italiano un popolo di imbecilli ipnotizzati ma non lo voglio offendere so semplicemente dicendo quello che è si possono svegliare questi imbecilli ipnotizzati sì certo si possono svegliare ma la domanda da porsi è lo vuoi o non lo vuoi ti faccio un esempio prendiamo la città di la città di roma a roma in questo caso vedi roma r o m a se io mi vado a scritturare roma roma è una frequenza 2 7 4 1 frequenza 14 la frequenza 14 numerologia indica intelligenza universale pertanto se una persona nasce a roma vuol dire che è una persona che parte con un principio che è super intelligente ha un'intelligenza universale ed è una città legata all'arte e alla comunicazione tanto che il vaticano dove si è messo a roma chi è lo stato più potente del mondo il vaticano chi è che all'arte più potente del mondo il vaticano chi è che ha il sapere più potente del mondo il vaticano guarda caso culo no no è giusto che il vaticano sia roma perché roma a livello di energia è una città che porta la frequenza di arte di bellezza di potenza immensa a roma ci deve essere il parlamento no il parlamento a roma è come andare via in auto cabrio e c'è pioggia ma sei imbecille e cabrio tira sulla cappotta beh è la stessa cosa la politica a roma è nefasta la politica roma uguale fallimento la politica roma uguale corruzione la politica roma non si deve fare perché il nome politico è un nome che lavora sulla giustizia sulla sensibilità degli odori sull'olfatto pertanto l'affare quando una persona va a roma dovrebbe andare a roma e pagare il biglietto perché roma comunque ritengo che sia la città più bella al mondo no benissimo io vado a roma bene quant'è 50 euro perché perché sei arrivato a roma e dov'è il museo questo è già il museo sei già a roma roma dovrebbe vivere di turismo di arte di sapere e di intelligenza invece roma vive di che cosa di stupidità e di chi è la colpa di un popolo ipnotizzato e la politica la politica milano codice 4 1 3 1 5 7 codice 21 giustizia milano è una città che parla di giustizia parla di giove se io faccio la capitale d'italia a milano porto la frequenza di quell'ambiente di quella di quell'ossigeno in una città dove io domino l'europa tanto che milano domina la moda nel mondo milano dovrebbe essersi la politica poi vediamo torino bene a torino torino è una città 26 e la città 26 e la città 26 e la città della massoneria la città 26 e la città dell'esoterismo la città 26 la città dell'occulto pertanto tu vuoi studiare occulto vai a torino vivi a torino vuoi studiare arte vai a roma o vuoi studiare comunicazione vai a roma vuoi studiare politica vuoi fare il magistrato vuoi fare il giudice vai a milano vuoi andare verso il lusso verso la bellezza verso il sapere vuoi andare verso i profumi vuoi andare verso i fiori vuoi andare verso la bellezza estrema e anche l'arte vai a firenze in queste città dovrebbero esserci queste università ma io amo la spiritualità napoli codice 25 ma io amo far da mangiare bologna codice 28 ogni città porta la sua energia l'energia è l'aria che respiriamo e l'energia rimane lì ecco che se io ho una persona o un bambino o un talento dico scusa sì come ti chiami francesco francesco sì mi dici tu vuoi fare il cuoco sì bene devi andare a studiare a bologna perché perché a bologna impari a fare il cuoco diventerai un grande cuoco perché le frequenze del cuoco perché ti insegnerò a fare le frequenze del cuoco per questo 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 motivo e deve diventare ricco nel fare il cuoco bisogna imparare a tirare fuori questa parola ricchezza ma la ricchezza non è solamente il denaro la ricchezza è proprio anche l'atteggiamento il sapere il sauer fair invece no invece oggi le persone non hanno conoscenza oggi le persone non hanno sapere ok venezia venezia è è una città che parla sempre di giustizia ma che parla di perfezione perché tanto la città della perfezione pertanto a venezia andrebbero fatti dei progetti legati alla perfezione quindi la perfezione devo fare una cosa che lavora sulla perfezione quindi venezia è una città ideale sulla perfezione una metafora che mi viene in mente sulla perfezione può essere un orologio quindi un orologio un qualcosa che riguarda l'orologio venezia ci sta anche venezia ma al di là di questo al di là di questo io quello che voglio dire quello che voglio comunicare ad ognuno di voi è una cosa semplicissima che noi dobbiamo incominciare a essere ricchi che noi dobbiamo incominciare a capire che abbiamo lo stato più ricco il mondo perché l'ossigenazione che c'è in italia non c'è da nessuna parte ci stanno buttando giù di tutto di più ma non me ne frega un cazzo perché l'italia è forte il problema è che sono i cittadini italiani che si devono svegliare sono i cittadini italiani che devono uscire da questa ipnosi e sono i cittadini ma italiani che devono andare incontro al sapere ok verona è occulto come torino è un codice 26 allora al di là delle città che vi ho fatto semplicemente una bellissima metafora e vi ho fatto capire che ogni persona di voi è ricca anche il più sfigato è ricco ma non ha mai capito che cosa ti devi sbloccare livello energetico devi capire che gravidanza ha fatto tua mamma tuo papà quali sono stati i tuoi primi tre sei dodici anni di vita come è stata la gravidanza andare verso questo sapere invece noi siamo i prontizzati con una televisione adesso c'è gente che si mette a guardare sanremo cioè ci mettiamo d'accordo di che cosa stiamo parlando gente che non è preparata gente che non ha sapere io non sono per la critica io sono per la verità e la verità è che in questo momento sono le ore 20 e 31 minuti dell'11 febbraio dell'anno 2023 la verità è che quello che dico anche l'anno scorso piano piano si stanno verificando tutte le cose allora le persone devono andare verso il sapere un'altra città sull'alimentazione è sempre milano perché il tre è un numero del cuoco il numero dell'olfatto è tutto vero milano bologna questo interasse ma al di là di questo di milano al di là di bologna la cosa importante che le persone devono comprendere è che la musica venezia la musica venezia va benissimo perché venezia è un codice tre il codice tre riguarda il canto ma riguarda anche la personalità tanto che le maschere dove nascono a venezia noi dobbiamo studiare la storia siamo un popolo abbiamo un dono dentro di noi a livello genetico ma non lo vogliamo sfruttare oggi le persone invece amano solamente la povertà ragionano da poveri e quando vedono un ricco dicono guarda quello lì lo vedi si è quella rubato ma come rubato è rubato non so come ma sicuro che avrà rubato no non ha rubato è un grande perché se quello la vivi in italia ea e paga il 70 per cento di tasse e si è preso una macchina di questo tipo vuol dire che è un grande e invece gli americani non pagano le tasse andate in america a vedere che le aziende più grosse americane non pagano le tasse noi se andiamo verso il sapere l'italia nel giro di breve nel giro secondo me di dieci anni non solo potrebbe uscire dall'euro ma diventerebbe in assoluto lo stato più ricco il mondo se l'italia fosse governata da un centinaio di persone che dico io diventa lo stato più ricco del mondo così perché abbiamo i mezzi per farlo oggi sono stato a firenze ieri a firenze solamente guardare questa città sono incantato dall'energia dal sapere dalla bellezza dal dall'arte ma anche dall'energia delle persone stesse ecco che l'ambiente è una delle prime cause anche di malattia per quale motivo ma perché se il tuo corpo ha registrato tanta svalutazione in quell'ambiente è di numeri antagonisti ovvio che mi va in conflitto di svalutazione ragazzo è normale allora quello che io dico è che dobbiamo incominciare a essere ricchi dobbiamo incominciare a essere ricchi dentro invece noi abbiamo gli americani un eight states of america codice 62 ogni otto anni devono andare in guerra se non muoiono america ogni otto anni devono andare in guerra se non crepano perché hanno un nome fondamentalmente io non sono anti americano e ci mancherebbe anzi mi piacerebbe se fossi un giorno potente anzi lo sarò certo parlerò gli americani come si deve ma come non ha mai fatto nessuno c'è con i coglioni e non facendo ruffiano americani non hanno niente da insegnarmi semmai non imparare la cosa che mi piace degli americani che possono insegnarmi e possono trasmettere gli italiani ha il senso di meritocrazia quello sì e il senso che ci credono quello mi piace ma sono giovani è il popolo più giovane che c'è sulla terra e ditemi in una famiglia di tantissimi figli comanda il più giovane il più giovane non ha esperienza gli americani non hanno esperienza per quello che i russi si incazzano e dicono ma che cazzo sono questi allora il concetto è molto semplice la simbologia le metafore la matematica sacra bypassa la mente critica bypassa la tua mente analitica bypassa tutto quello che studiato in due minuti ti metto sul muro ti dico tu sei questo punto fai questo e fai soldi fai questo è successo fai questo e se un fallito e se un fallito perché ognuno di noi porti i suoi doni porti i suoi talenti che dialogo direttamente con l'universo che crea quando il 36 e il 9 si uniscono tra di loro l'universo crea nicola tesla leonardo da vinci firmava in 24 modi diversi perché si spostava di frequenza in base all'incarico che aveva quindi armi quindi così quindi pittore eccetera 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 allora io quello che io voglio dire ad ognuno di voi lo so che questo è un diretto un po difficile ci mancherebbe non è per tutti uno che mi guarda per la prima volta dice questo è un pazzo sia un pazzo che ha un culo pazzesco perché le persone che ha avuto modo di lavorare non è che gli ha cambiato la vita gli ha proprio sdrenata al positivo vita di successi vita di risultati vita di tantissime prove allora le persone dovrebbero essere curiose e dovresti studiare la città per metafore per metafore perché ogni città ha la sua frequenza ha la sua metafora ha il suo fare ma anche voi anch'io noi siamo forti noi siamo potenti noi siamo l'italia noi siamo il popolo italiano e non siamo un popolo di coglioni però ci vuole umiltà ci vuole umiltà ci vuole aprire la mente spalancarla e portarla al cuore e osservare i risultati perché quando ti trovi davanti o dinanzi un risultato il risultato quello che conta la miglior laurea che esiste è il risultato non è quello che dice quello che fai quello è il concetto dire che tu sei potente io sono potente sì ok sei potente non è il fatto che tu sei potente comportati da potente dai la mano e sentiti umile potente perché la potenza va ma compromessa con l'umiltà andare via 300 all'ora sono capace tutti basta accelerare il problema è tener la macchina 300 all'ora allora ci vuole la potenza ma ci vuole anche l'umiltà allora le domande da porsi è che l'umiltà è solo un valore per i ricchi un povero non può essere umile e questa è una gran figata io farei una maglietta un povero non può essere umile perché perché povero solo un ricco può essere umile e quando parlo di ricchezza solo un uomo forte solo un uomo determinato solo un uomo convinto solo un uomo con due coglioni come quello di un toro può essere umile e dinanzi allo sbaglio dice scusa ma ho sbagliato si mette in discussione chiede scusa chino alla testa dice cazzo gesù era molto ricco se voi pensate che gesù era un povero non avete capito un cazzo gesù era ricchissimo era ricchissimo di sapere è ricchissimo di salute è ricchissimo anche di denaro era ricchissimo di tutto era ricco e era umile e insegnava l'umiltà e insegnava la forza quando una persona dice guarda quello è umile no un povero è debole non è umile e voi confondete la debolezza per l'umiltà un uomo debole è un debole ed è povero e quando una persona è forte una persona è potente una persona ricca quindi la ricchezza non è denaro la ricchezza ripete la salute la ricchezza la gioia di vivere la ricchezza il benessere la ricchezza l'autostima la ricchezza la convinzione l'intenzione la certezza la ricchezza è anche il denaro il denaro fa parte della ricchezza invece oggi le persone pensano una persona ricca pensano solamente una persona di raro no la persona ricca una persona di sapere il sapere porta la ricchezza perché il sapere ti porta la soluzione e la soluzione alla velocità emozionale ti porta il risultato spero di avervi provocato abbastanza in questa diretta siete in 2000 persone sicuramente ho fatto una diretta così la guarderanno in tanti più avanti vi chiedo di condividerla perché è molto interessante è molto provocatoria certo che è provocatoria quello che ci vuole perché c'è bisogno di provocazione provocare un'azione provocare un perché e io dico ad ognuno di voi sentitevi veramente importanti e uscite dall'ipnosi e cercate di osservare il buono quando io conosco una persona posso osservare due cose una positiva e una negativa in qualsiasi caso avrò sempre ragione perché anche quando osservo una cosa negativa ho ragione perché magari è giusto sì ma la domanda da porsi è vuoi aver ragione vuoi essere felice allora io voglio essere felice non voglio aver ragione e quando serve una cosa cerco di osservare quello che mi piace e quello che non mi piace cerco di non dargli il potere cerco di dare potere a quello che mi piace e se cerco di dare potere a quello che mi piace automaticamente nascondo quello che non mi piace e non solo fa solo il bene a me stesso ma anche la persona interessata viva la follia vi do una buonissima giornata una buonissima serata e e pensate cose folli ma soprattutto riflettete su quanto vi ho detto perché ricordatevi una cosa una persona da sola non cambierà mai il mondo ma se una persona da sola si unisce a tante persone che hanno un credo e si mettono in discussione sono curiose quelle persone cambiano il mondo ciò che ti fa cambiare il mondo all'idea ma soprattutto ciò che ti fa cambiare il mondo è quello di avere una voce nel cuore che ti dice io sono venuto in questo mondo per migliorarlo per cambiarlo e per renderlo meraviglioso e forte buona serata viva l'amore ciao